Buongiorno amici di Bet Italia Web, buon venerdì, andiamo alla velocità della luce perché abbiamo un ritardo incredibile oggi, come sapete, ultima puntata della settimana, c'è lo studio di D'Artagnan su tutte le partite di Serie A e le sue giocate sui maggiori campionati di calcio a coprire tutto il weekend. Vi dico già che in tutto saranno 7 free pick. Oggi inizia subito la Serie A, c'è l'anticipo Fiorentina-Inter, questa sera al Franchi, un impegno cruciale sia per i viola di Prandelli sia per gli uomini di Antonio Conte e ne parliamo dopo. C'è anche la Serie B con Lecce-Ascoli, padroni di casa imbattuti da 6 turni, però in questo arco di tempo hanno raccolto solo due vittorie che hanno un po' rallentato la corsa dei Salentini che comunque oggi sono favoritissimi contro l'Ascoli. In campo anche in Liga, Alaves-Valladolid alle 21 aprono il 22esimo turno del campionato spagnolo, questo è uno scontro importante in zona salvezza. Anticipi anche in Bundesliga con Erta-Berlino-Bayern-Monaco e in Eredivise olandese. Vi segnalo anche 5 partite in Portogallo, 17esimo turno della Primera Liga, in particolare Maritimo-Sporting, lo Sporting cerca un'altra vittoria e cerca la fuga dopo il successo sul Benfica. Basket e Eurolega a fare i puntati su Asvel-Lyon contro Olimpia-Milano alle 20.45 di questa sera con gli uomini di Ettore Messina che arrivano in Francia, si galvanizzati dai 6 successi consecutivi nella competizione continentale, però anche reduci dalla preoccupante sconfitta in casa in campionato contro Trieste domenica scorsa. In tutto sono 5 le partite oggi, c'è il derby greco-olimpiaco-Spanatinaikos, c'è quello tedesco tra Bayer-Alba-Berlino e c'è anche quello spagnolo con Real Madrid-Basconia. Ok, KHL è ricco venerdì da 9 partite, il nostro insider ci ha dato molte idee nel VIP di Matting Maniac, ne riportiamo una anche qui in Free Peak. E oggi voglio chiudere con il rugby perché domani inizia a 6 nazioni con la sfida Italia-Francia in programma all'Olimpico alle 15.15, subito una partita durissima per la nazionale di Franco Smith che se la dovrà vedere contro una delle favorite per la vittoria del torneo. Infatti sulla lavagna scommessa anteposto di Betaland la Francia è seconda dietro sola l'Inghilterra. I transalpini si giocano campioni a quota 3.35 mentre la vittoria finale degli inglesi è data a 2.20. Più staccate l'Irlanda a 5, il Galles a 13, la Scozia a 20 e ovviamente a chiudere l'Italia a 750 per l'impresa della vittoria del titolo delle 6 nazioni che è praticamente impossibile. Vi dico anche che domani la vittoria dell'Italia contro la Francia è proposta 12 volte l'apposta mentre il successo francese ha una quota simbolica a 1.03. Quindi così per capire come l'Ital Rugby inizia anche questo 6 nazioni. 6 nazioni che seguiremo di sicuro sul VIP di Betimene con il nostro insider che oltre a seguire basket, hockey e volley è anche un grande esperto di rugby e di sicuro ci darà qualche segnalazione sull'evento più atteso di questo sport. Situazione simile anche in Inghilterra-Scozia, i bianchi di Eddie Jones che sono anche i campioni in carica sono proposti vincenti all'esordio con una micro quota 1.09 mentre la vittoria della Scozia si gioca a 7. Un po' più in bilico invece la sfida di domenica, Galles contro l'Irlanda, Galles a 2.35, vittoria irlandesa a 1.63. Vediamo i risultati di ieri, free pick, abbiamo preso l'under nel big match in Premier League però purtroppo ci sfugge il cipino sulla X visto che è arrivata la vittoria di misura del Chelsea per 1-0 sul campo del Tottenham. Nel finale di partita arriva invece il gol-gol in Spagna e arriva anche la vittoria dello SCA in overtime per quanto riguarda l'Hockey quindi su queste due partite siamo stati fortunati ma l'abbiamo ripagata subito col volley 175 punti, ce ne mancano 3 per fare l'over, è stata una partita da almeno 4 set come avevamo previsto però gli ultimi due set il Chemica ha segnato davvero troppo poco, 16 e 18 punti e ci ha fatto saltare per un pelo l'over, peccato. È stata comunque un'altra giornata positiva, siamo andati in profitto, più 91 quindi non ci lamentiamo arriviamo a più 1346 in questa stagione 3, un mese e qualche giorno e arriviamo a più 14862 nel totale quindi ci avviciniamo ai 15k che speriamo di scavallare, di superare entro la fine del mese. vi faccio vedere anche le tips di mercato che escono ogni giorno tra le tante proposte del canale VIP di Betting Maniac non entrano le due quote basse ovviamente nella maledetta Danimarca ci sono invece gli over sia in Portogallo che in Svizzera ed eccoci alla serie A ah oggi è vero, è vero, facciamo un passaggio indietro, è vero oggi vi dovevo parlare delle giocate ufficiali del Super Bowl di NFL di domenica ne abbiamo parlato martedì, mercoledì, anche ieri abbiamo cercato di analizzare, di scovare tutte le statistiche più interessanti vi ho già dato i primi consigli, oggi dovevamo confermare le giocate abbiamo deciso di aspettare per un motivo pratico come vi dicevo il grosso dell'azione e dei soldi nel mercato americano vengono messi nelle ultime 48 ore per quanto riguarda il Super Bowl e quindi aspettiamo anche da quel punto di vista poi oggi la puntata era già lunga perché adesso vedremo lo studio sulla serie A di D'Artagnan non ho fatto in tempo io personalmente a prepararvele quindi abbiamo deciso che le daremo da domani e domenica seguiremo in questo weekend da vicino il Super Bowl e le daremo anche in free pick per tutti nel canale Telegram di Betting Maniac trovate il link qui sotto, iscrivetevi, attivate le notifiche tra l'altro oggi abbiamo anche nuove partite di NBA arrivo da una notte micidiale in negativo 0-5, risultati assurdi oggi il big match è l'ultimo in programma Los Angeles Clippers contro Boston ne parleremo in serata sempre sul canale free di Betting Maniac per la free pick magari non sarà su questo big match comunque parleremo di NBA oggi in free pick parleremo di NBA perché il venerdì di college è molto povero ci sono molte partite ma di confidence medio-basse nessun programma in top 25 è impegnato oggi la sfida più interessante diventa quella di Big Ten tra Penn State e Maryland ci sono anche 5 partite di NHL ieri ho dato la free pick di NHL Montre almeno 1,5 contro Ottawa anche qui ditemi come diavolo è possibile Montre ha giocato meglio parliamo di una delle migliori squadre dell'NHL giocava in casa miglior attacco 4,4 gol a partita ieri si è fermata a 2 posso capire che non copri l'handicap posso capire che fatichi un po' di più e la vinci in overtime ma che la perdi nei tempi regolamentari contro una delle peggiori squadre dell'NHL assieme a Detroit ovvero i Senators peggior difesa una difesa con la Brodo e io non so veramente che dire comunque oggi 5 partite c'è il rematch tra Florida e Nashville si tornano ad affrontare anche Philadelphia contro Boston sfida molto interessante dopo la pausa forzata costretta dal Covid e le diverse partite posticipate tornano sul ghiaccio anche gli Sharks che giocano ad Anaheim e i Golden Knights che ospitano i Los Angeles Kings va bene adesso ci siamo veramente allo studio di D'Artagnan sulla Serie A vi ricordo che andiamo a vedere le ultime dai campi le statistiche più interessanti e le quote di riferimento però non sono giocate ufficiali per quelle le vediamo nel prossimo blocco allora iniziamo ovviamente da Fiorentina Inter di questa sera Prandelli abbiamo detto senza gli squalificati Milenkovic e Castrovilli c'è anche Ribery in dubbio che è affaticato proverà nella rifinitura nell'Inter nessun turnover Conte dovrebbe andare con la squadra migliore in attacco Lautaro e Lukaku la Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime 7 sfide di Serie A contro l'Inter da una parte l'Inter ha il miglior attacco del campionato con 49 reti all'attivo dall'altro solo il Parma ha segnato meno dei viola in questa Serie A l'idea qui è la combo bet 2 più over 1,5 a 1,87 quindi vittoria nera-azzurra in trasferta in una partita da almeno due gol totali Atalanta-Torino di domani pomeriggio Gasperini cambia qualcosa anche in vista della semifinale di ritorno col Napoli nel Torino Nicola ritrova Izzo il successo per 7-0 contro il Torino nel gennaio del 2020 è stata la vittoria più larga mai registrata dall'Atalanta nella sua storia di Serie A il Torino è la squadra che ha subito più gol nella mezz'ora finale di partita nel corso di questa Serie A ben 21 reti negli ultimi 30 minuti esattamente il triplo rispetto a quelli che ha subito nello stesso arco di tempo l'Atalanta solo 7 qui l'idea è Atalanta segna per ultima 1,30 domani pomeriggio c'è anche il mio Sassuolo che ospita lo Spezia De Zerbi cambia poco conferma Caputo davanti anche se l'attaccante è un po' affaticato ma dovrebbe farcela nello Spezia invece non ce la fanno Enzola e Piccoli il Sassuolo ha vinto tutte le ultime 5 sfide contro lo Spezia tra Serie A, Serie B e Coppitalia segnando 12 reti e subendone solo 3 Sassuolo che ha imbattuto da 11 partite di Serie A contro squadre neopromosse e ha vinto tutte le ultime 4 sfide di campionato contro squadre riguri realizzando 3,5 reti a partita il Sassuolo è la squadra che segna anche più reti in percentuale nei secondi tempi il 76% delle reti dei nero-verdi arrivano alla ripresa mentre nessuna formazione ha incassato più reti dello Spezia nelle secondi frazioni di gara ben 26 gol subiti alla ripresa al pari del Torino qui abbiamo due idee la doppia chance 1x e Sassuolo vincente secondo tempo a 2,15 domani c'è anche il big match Juve-Roma Pirlo dovrebbe gestire le energie in vista del ritorno di Coppitalia con l'Inter Bonucci e Chiellini titolari dietro Morata dovrebbe affiancare Ronaldo in attacco nella Roma senza Pellegrini Smalling e Predro dovrebbero esserci Cicumbulla e Cristante in attacco Mkhitaryan e Majoral che è ancora favorito sul reintegrato Geko in 173 precedenti tra le due squadre in Serie A la Juventus ha ottenuto esattamente il doppio dei successi della Roma 82 successi dei bianconeri 41 dei giallorossi qui l'idea è Juve-Vincente a 1,79 sabato sera Genoa-Napoli Genoa con lo stesso 11 di Crotone nel Napoli da valutare gli acciaccati Insigne ed M che sono usciti in malconci dalla sfida con l'Atalanta nel caso sono pronti Elmas e Petagna con Lozano largo Oshimena ancora in panchina queste sono statistiche interessanti a partire dall'arrivo di Davide Ballardini al Genoa ovvero a dicembre, 21 dicembre scorso il Grifone è la squadra di Serie A con meno gol subiti 4 gol in 7 match più clean sheet ovvero più partite con la porta inviolata 4 la miglior percentuale di tiri nello specchio 60% la seconda miglior percentuale realizzativa ed è anche quinta come media punti 2 punti a partita quindi Ballardini da quando è tornato sulla panchina del Genoa è stato un vero toccasana per il Grifone dall'altra parte il Napoli ha giocato una partita tosta in settimana in Coppa Italia gliene attende un'altra sempre in Coppa Italia contro l'Atalanta questa settimana attenzione all'1x a 2.15 passiamo domenica al lunch match Benevento-Sampdoria Inzaghi conferma Caprari la Padula nella Samp Pecdale in vantaggio su Adrian Silva in attacco Keita dovrebbe sostenere Quagliarella il Benevento ha guadagnato solo il 41% dei propri punti in casa la Samp però è la squadra che da più partite aspetta il pareggio in questo campionato nelle ultime 11 gare per i blu cerchiati sono arrivate 5 vittorie e 6 sconfitte noi oggi azzardiamo proprio la X andiamo sulla fine di questo trend Cippino sulla X a 3.35 Milan-Crotone Pioli-Sceglie-Tomori con Romagnoli dietro nel Crotone Messias non c'è perché è squalificato il Milan ha ricevuto finora 14 rigori a favore dal 2004-2005 i rossoneri non ne hanno mai calciati così tanti in un'intera stagione qui l'idea è Milan-Rigore sì a 3.25 domenica pomeriggio c'è anche Udinese Verona Gotti è senza Rodrigo De Paul squarificato Okaka ha recuperato ma è ancora lontano da una buona condizione fisica nel Verona dovrebbe agire Lasagna davanti con Kalinic in panchina Verona terza migliore difesa del campionato qualche problema in più in attacco tra l'altro Verona non è riuscita a segnare nelle ultime tre trasferte in Friuli Udinese però dal canto suo ha mancato l'appuntamento con il gol in tutte le ultime tre sfide contro il Verona in Serie A i Friulani hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato qui l'idea è il gol no a 1.95 in alternativa per le multiple e raddoppi c'è anche l'under 3.5 a 1.25 alle ore 18 di domenica c'è il derby emiliano Parma-Bologna D'Aversa rilancia Bruno Alves nel Bologna è affaticato Orsolini che non si è allenato il Bologna ha segnato un solo gol nei primi 15 minuti di gioco nessuna squadra ha fatto peggio in questo campionato dall'altra parte il Parma ha subito solo due reti nei primi 15 minuti solo il Napoli ha fatto meglio dei Ducali il problema del Parma è l'attacco il Parma non è riuscito a segnare nelle ultime sette partite casalinghe di questo campionato un dato pessimo il Bologna non ha segnato nelle ultime tre quindi qui l'idea è nessun gol prima del trentesimo minuto a 1.83 chiudiamo domenica sera con Lazio Cagliari Inzaghi da fiducia Musacchio dietro poi per il resto è la Lazio migliore Correa Immobile dovrebbero giocare in attacco nel Cagliari Pavoletti ha in vantaggio su Simeone Cepitelli e Sottil sono affaticati a livello statistico la Lazio non perde in Serie A contro il Cagliari dal maggio del 2013 una vita e da allora per i biancocelesi sono arrivati ben 11 vittorie e due pareggi la Lazio ha anche vinto tutte le ultime nove partite casalinghe di Serie A contro i Sardi e ha vinto le ultime cinque partite di campionato quindi la squadra di Inzaghi è in un ottimo momento di forma all'esatto contrario di quella di Francesco il Cagliari non vince addirittura da 13 partite di Serie A 5 pareggi e 8 sconfitte in questo arco di tempo per i Sardi è la striscia peggiore dal 2010 qui l'idea è quota bassina ma Lazio vincente a 1,38 e veniamo ora alle free pick ufficiali come detto sono 7 iniziamo in ordine cronologico oggi non iniziamo col calcio iniziamo con Insider che ci dà una giocata di KHL Torpedo Nizni Novgorod contro Dinamo Mosca vittoria della Dinamo a 1,77 Dinamo che arriva da 5 belle vittorie è in ottima forma e può ancora sperare di arrivare fino al secondo posto a Ovest è in corsa con lo Jaroslav e con lo SCA mentre il Seska Mosca è un po' più staccato in avanti la Torpedo è certa di fare i playoff a Est però ha un rendimento decisamente inferiore e tra l'altro ha perso 10 degli ultimi 12 precedenti contro la squadra di Mosca Insider per oggi ci dà anche una doppia di Eurolega di basket a 1,89 andiamo sulle vittorie di due favoriti in casa il Fenerbahce contro lo Zenit e il Bayer contro l'Alba Fenerbahce è in forma 8 vittorie di fili in Eurolega mentre lo Zenit è reduce da 2 sconfitte e ha perso anche le ultime 2 in casa contro i Turchi compreso il 65 e 73 dello scorso dicembre quindi speriamo che in Turchia il Fenerbahce possa vincere aggiungiamo la vittoria del Bayer che ritrova Lucic e Baldwin mentre per l'Alba Granger è out ed è in dubbio anche Silva sono due assenze importanti per la squadra di Berlino per oggi abbiamo anche una giocata di D'Artagnan non stiamo a ripetere il perché sulla serie A perché l'abbiamo appena discusso Fiorentina-Inter combo bet 2 più over 1,5 a 1,87 quindi vittoria Corsara dei Neroazzurri in una partita da almeno 2 gol totali magari un po' come la pazza partita dell'andata passiamo a domani dove inizia la nostra multipla di serie A anche questa settimana stiamo bassini come quota 3,18 stake mezzo stake più basso ovviamente multipla che inizia domani con Atalanta-Torino e finisce domenica con Lazio-Cagliari allora Atalanta-Torino Atalanta segna per ultima e poi aggiungiamo Sassuolo-Spezia 1x Juve-Roma 1x e anche Udinese Verona under 3,5 a chiudere come detto la vittoria della Lazio contro il Cagliari e c'è anche l'azzardo uno dei due azzardi di questo turno di serie A Sassuolo-Spezia Sassuolo-Vincente nel secondo tempo a 2,15 anche qui stake più basso non è poi un azzardo questo come abbiamo visto io pensavo me la dessero stake pieno full stake invece mezzo stake ma ci fidiamo ovviamente di D'Artagnan e lui l'esperto di calcio andiamo a domenica un altro azzardo questo vero Benevento-Sampdoria X a 3,35 stake 0,5 e infine l'ultima giocata settima e ultima giocata andiamo in Premier League Big Match Liverpool-Manchester di domenica under 2,75 Asian Handicap somma goal asiatica non Asian Handicap a 1,98 stake 1 in questo caso nel Big Match a Danfield D'Artagnan giocà under il City ha la miglior difesa del campionato solo 13 gol al passivo al momento il Liverpool ha subito 10 gol in casa in tutto all'andata Manchester è finita 1-1 andiamo con un'altra partita da poche reti la somma goal asiatica 2,75 cosa vuol dire? vuol dire che in caso di 3 gol avremo mezzo rimborso con 0 1 o 2 gol ovviamente vinceremo se ci saranno 4 o più reti pagheremo lo stake intero in questo caso 100 euro ci sono assenze importanti da ambo le parti il City in avanti rischia di essere ancora senza Aguero ed è senza De Bruyne come al solito molti assenti anche per Klopp con il Liverpool che ha diversi giocatori non a disposizione va bene stiamo arrivando alla fine mi sta morrendo mi sta morendo anche il sito il computer speriamo di non avere dei lag ecco la nostra grafica finale oggi più brutta del solito per farci rimanere dentro tutto vi ricordo di continuare a seguirci sui nostri canali Betting Maniac per le giocate oggi di NBA questa sera di seguirci sullo stesso canale per tutto il weekend con le giocate del Super Bowl di football americano e poi tutto il resto ovviamente noi ci ritroviamo lunedì io vi auguro un buon weekend una buona giornata fate buone scommesse ma puntate sempre con la testa ciao